Gran finale, gran finale signori, beh tanto passa, fate un applauso alla maestra che passa così, inosservata come se nulla fosse, anche perché le coreografie insomma di show ogni tanto brutte, ogni tanto no ma l'artefice è là in mezzo, seduta a guardare le sue ragazze e i suoi ragazzi a proposito di ragazze, parliamo della classe 3 che tornano a mostrarci i loro Caribbean show dance loro sono 17 ma sembrano 2496, tanta simpatia e tanta voglia di crescere e contraddistingue questo gruppo e questa volta ci presentano, attualissimo tra l'altro della serie Netflix che tutti voi probabilmente avrete visto Mercoledì a Dance Signorina Addams, ha detto di aver avuto un percorso educativo particolare 8 squat in 5 anni Ehi strama, l'allenamento è a porte chiuse L'unica persona che può torturare il mio caderno sono io Ehi strama, l'allenamento è a porte chiuse Ehi strama, l'allenamento è a porte chiuse Ehi strama, l'allamento è a porte chiuse Why are you looking at me like it's awesome? You should go to my feet and jump in my room Adorevai la nevermore E' un uomo magico Lì ho conosciuto tua madre E me ne sono innamorato Choco, 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 choco Choco, choco, choco Choco, 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 choco Mercolio Adams, eccole qua Tutte le mercoledì in distanza brava Prendetevi l'applauso del pubblico Loro sono La signorina Sara B Pensavo di aver sbagliato io come al solito Invece questa volta, no strano, Aurora Abbiamo Dalia, Marta, Chiara, Giulia, Matilde, Sibilla, Giulia, Martina, Benedetta, Joelle, Matilde, Elisa, Sara, Gaia e Assia Eccole qua, ho lasciato qualcuno? Mamma mia, mi sto perfezionando E' molto peccato se siamo alla fine, credibile, grazie Mercoledì a tutte Grazie Beh, ci siamo Grazie 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 Grazie